Un saluto a tutti voi, bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale, in primo piano sempre l'emergenza Covid. Iniziamo dei dati perché ieri c'è stato un nuovo picco di positivi in Sardegna, 489, ma a fronte anche di 3.377 test. Nell'ultimo bollettino si sono registrate purtroppo anche 11 vittime. Gli unici dati un po' più confortanti sono quelli dei ricoveri, che sono diminuiti sia nelle parti non intensivi sia in terapia intensiva, rispettivamente 5 e 7 in meno. In aumento alle persone invece in isolamento domiciliare, ora 8.506 manchi guariti, ieri 99 in più rispetto al precedente rilevamento e altri 69 guariti clinicamente. Intanto fa ancora discutere il caso discoteche, dopo la puntata di report e le dichiarazioni del consigliere regionale Cocciu, c'è da segnalare che la procura di Cagliari ha aperto un fascicolo, i magistrati vogliono capire se la regione abbia consentito ai locali della Costa Sberalda di non spendere la musica nonostante fosse a conoscenza dei dischi. Si procede per epidemia colposa, al momento non ci sono comunque indagati. Altre dichiarazioni che fanno discutere sono quelle dell'assessore regionale, la sanità, Mario Niedu. In uno degli ultimi confronti con il governo sulla gestione dell'emergenza, avrebbe chiesto di chiudere tutte le scuole elementari, medie e superiori, per frenare l'avanzata del Covid. Niedu si è anche detto pronta a valutare con il presidente Solinas e il comitato tecnico scientifico la possibilità di adottare una specifica ordinanza regionale. Questo è il quadro della situazione, il quadro invece di Alghero che è stato fatto ieri dal sindaco Mario Conoci in un video messaggio diffuso sui social. Gli ultimi dati forniti da TS indicano 43 positivi, ma lo stesso primo cittadino ha ammesso che ulteriori casi possano essere non compresi in questo dato fornito dall'autorità sanitaria. Conoci ha parlato anche del recente incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale ha partecipato con i sindaci di Sassari, Olbi, Ozzieri e Tempi, ovviamente con il prefetto, l'autorità sanitaria, in particolare il professor Terranni e i responsabili provinciali delle Forze dell'Ordine. Uno dei punti trattati è stato quello del coordinamento delle Forze dell'Ordine per i controlli che andranno fatti dalle 22 alle 5 del mattino, dove sappiamo vige il divieto assoluto di lasciare le proprie abitazioni e quindi ci sarà un rafforzamento dei controlli perché questa prescrizione fondamentale venga rispettata. È stato fatto anche il punto però della situazione delle nostre strutture sanitarie a livello provinciale, quindi da Alghero a Sassari per arrivare fino a Olbia. In questo momento ci sono attive 14 posti letto di terapia intensiva a Sassari, i 6 di Alghero e 8 al Policlinico Sassarese. Si stanno attivando inoltre altri posti a Olbia. è stato sottolineato dal professor Terragni l'importante contributo fondamentale anzi che il nostro ospedale sta dando alla gestione di questa crisi difficile con i suoi 6 posti letto di terapia intensiva e inoltre con la predisposizione, come abbiamo detto nei precedenti collegamenti, del terzo piano dell'ospedale marino che a regime potrà ospitare 47 positivi per cure non da terapia intensiva, più leggere ma che necessitano di ospedalizzazione. Le strutture sanitarie stanno subendo una grandissima pressione perché il contagio e i tamponi che vengono fatti impongono sempre maggiori ricoveri. La situazione quindi è molto delicata, stiamo attraversando un periodo delicatissimo nel quale ognuno di noi però può dare un proprio contributo. È stato sottolineato ed è sottolineato a tutti i livelli che l'elemento fondamentale è quello della responsabilità individuale. Dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo usare la mascherina, dobbiamo sanificarci spesso le mani e il distanziamento è l'elemento che più di qualunque altro può farci superare questo momento, può tutelare la salute nostra e di chi ci sta vicino. Quindi anche nei luoghi nei quali ci sentiamo più sicuri, la nostra casa, i luoghi di lavoro, i luoghi che frequentiamo più spesso, anche con le persone che conosciamo, devono essere i luoghi nei quali rispettiamo queste prescrizioni che sono semplici ma diminuiscono di mille volte il rischio di poter contrarre questo virus. E proprio ieri a Portaterra c'è stato un incontro tra il sindaco, ma riconosce il comandante della compagnia dei Carabinieri del Ghero, Pietro Barrel, i temi della sicurezza in città in primo piano, con riferimento ai recenti fatti di cronaca, ma non solo. L'amministrazione e forze dell'ordine continuano la collaborazione con l'intensificazione dei controlli e del monitoraggio sul rispetto dei divieti di circolazione e di spostamenti in generale della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza, sottolineano in una nota dal comune. Il sindaco e il comandante dei Carabinieri hanno discusso dei recenti episodi accaduti in città sui quali l'arma sta svolgendo le attività investigative. Si stanno intensificando gli sforzi per mantenere il livello di sicurezza che caratterizza la nostra comunità, chiarisce e conosce, e siamo pienamente fiduciosi nell'attività in atto da parte degli inquirenti. In apertura di Tg, facendo un po' il punto della situazione sull'emergenza Covid, abbiamo detto dell'ipotesi di chiusura di tutte le scuole, come chiesto dall'assessore regionale alla sanità. Tutti gli istituti però in queste settimane hanno seguito davvero la lettera, rigidi protocolli, molti stanno sfruttando anche gli spazi esterni a disposizione. Il caso della scuola elementare Maria Immacolata. Ne abbiamo parlato proprio con la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo numero 2, Angela Kerveddu, che comprende anche la primaria di Via Giovanni XXIII. Questa mattina in visita in una delle scuole dell'istituto comprensivo numero 2, siamo in compagnia della dirigente Angela Kerveddu. Dirigente, siamo venuti a vedere quest'aula all'aperto, che tanto stava facendo sorridere in positivo le persone che anche sui social hanno potuto vedere come i vostri bambini a turno fanno lezione. Sì, allora è un'idea che abbiamo avuto quest'estate quando ci predisponevamo alla repartenza. Abbiamo uno dei ragionamenti, delle riflessioni che abbiamo fatto è che la necessità imposta dal rispetto delle regole, del distanziamento, indossare le mascherine eccetera, avrebbe in qualche modo condizionato la vita scolastica dei bambini e anche il loro benessere. E quindi abbiamo pensato di valorizzare gli spazi esterni, anche seguendo quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per il piano di rientro a scuola, che suggerisce appunto l'utilizzo degli spazi esterni, sia perché c'è una minore possibilità di contagio, sia perché c'è necessità di aereare frequentemente le scuole, quindi per motivi di carattere igienico-sanitario, ma anche e soprattutto per il benessere dei bambini a scuola. E quindi gli spazi aperti sono un polmone per le scuole che consentono ai bambini di alleggerire la loro giornata scolastica, la staticità della giornata scolastica e poi di fare scuola in maniera diversa. E adesso mi resta da chiederle come sta procedendo anche sotto l'aspetto del controllo per quanto riguarda la pandemia, come va a scuola? Allora, a scuola direi che tutto sommato va bene, nonostante quello che si dice. Innanzitutto i bambini sono rispettosissimi delle regole. Veramente non ci aspettavamo, sono talmente felici di essere rientrati a scuola, è mancata a loro la scuola, i bambini sono stati le vittime invisibili di questa pandemia, è mancata non soltanto sul piano dell'apprendimento, ma è mancata sul piano della socialità, delle relazioni. Quindi sono molto felici di essere rientrati a scuola, sono molto rispettosi delle regole. Non abbiamo avuto assolutamente problemi in questo senso, nonostante temessimo un po' che ci fosse un po' di tensione, un po' di nervosismo da parte dei bambini. Invece i bambini hanno subito ben recepito. I protocolli nelle scuole sono molto rigidi, poi ovviamente il virus purtroppo sappiamo che è molto aggressivo e questo non è che ci renda immuni, però allo stato attuale anche con l'assistenza di un po' di fortuna noi non abbiamo avuto contagi scolastici, cioè ci sono stati dei casi di positività nella popolazione scolastica, ma non ci sono stati contagi avvenuti all'interno della scuola. Chiudere le scuole non è la soluzione migliore, ma è di certo la più semplice, soprattutto per coprire inefficienze di altro genere della giunta regionale sardoleghista in suo complesso e dell'assessore regionale della sanità Mario Nieddu in particolare. Vorrebbe chiudere le scuole l'assessore Nieddu con la stessa disinvoltura con cui hanno tenuto aperte le discoteche a Ferragosto. Non possiamo consentirlo, lo scrive in una nota Gabriella Esposito, consigliera comunale di Pelalghero, commentando appunto l'intenzione della giunta regionale. Tutti in qualche modo viviamo la scuola nella quotidianità sulla nostra pelle. Io da mamma e da rappresentante di classe e di istituto, da consigliera comunale e da ex assessore alla pubblica istruzione, la prima domanda che mi pongo di fronte alla ventilata chiusura delle scuole è se sia stata davvero identificata una relazione di causa-effetto fra la riapertura delle scuole e l'aumento dei contagi. Mi piacerebbe infatti che le scelte politiche, soprattutto quelle che riguardano i nostri figli, siano sempre supportate da evidenze scientifiche e non siano frutto di opinioni, interessi politici, convenienze, baratti o tanto meno frutto di pressioni economiche, come abbiamo visto per l'apertura delle discoteche. Lo sappiamo, ogni misura di contenimento comporta costi economici e sociali non indifferenti. È evidente che la cessazione delle attività scolastiche avrebbe costi futuri notevoli che non possiamo ignorare. Sono i costi culturali, sociali, relazionali, generazionali e intergenerazionali. Una crisi apparentemente meno tangibile nell'immediato di quella economica, ma non meno grave. E allora perché chiudere le scuole? Prosegue la Esposito. Chiudere le scuole senza un supporto scientifico sui risultati del contenimento dell'epidemia comporta solo effetti negativi nel breve e nel lungo termine. Non salverebbe la coscienza dell'assessore Niedu, il quale non può adossare sul sistema scolastico le inefficienze di quello sanitario dallo gestito, con la mancata tracciabilità dei possibili contagiati, la lentezza dell'esecuzione di test al personale scolastico e la mancanza di test rapidi. La scuola non si tocca, conclude l'esponente di centro-sinistra. E noi ci fermiamo ora per una pausa pubblicitaria. Tra poco. Momenti di apprensione ieri mattina ad Alghero per un allarme bomba nella zona della Cunetta. Fortunatamente risultato nullo. I carabinieri di Alghero sono dovuti intervenire in via Francesco Bande, dove qualcuno aveva appunto segnalato la presenza di un oggetto sospetto posizionato sotto una macchina. Giunti immediatamente sul posto, gli uomini del nucleo operativo e Radio Mobile hanno proceduto a delimitare l'area e a interdirla al traffico. Durante le operazioni di controllo è stato anche disposto dai militari che la ricreazione di una scuola materna vicina al luogo in questione si svolgesse all'interno della struttura e non fuori. È stato poi il personale specializzato degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Sassari, che vediamo in questa immagine, a procedere con la verifica. A questa sono risaliti al fatto che si trattasse di un tubo in acciaio alla cui estremità pendeva un filo bianco. Le operazioni di bonifica, durate circa un'ora, hanno appurato la totale inoffensività dell'oggetto che per forma e dimensione poteva essere effettivamente scambiato per un ordigno. La terza commissione lavori pubblici presieduta da Monica Pulina è convocata domani con all'ordine del giorno, lo stato della procedura sull'ex cotonificio. Proprio in questi giorni il dirigente del settore ha approvato il progetto esecutivo, un progetto importante di riqualificazione per circa 3,2 milioni di euro che dovrà sottrarre al degrado l'aria e destinarla al servizio del quartiere di tutta la città. Seguiamo con molta attenzione l'iter fin dal nostro insediamento e continuiamo a farlo anche in queste fasi in cui si arriva alla gara d'appalto, sottolinea la Presidente di Commissione Monica Pulina. Sarà un polo di eccellenza per famiglie, giovani e per le attività produttive. Il quartiere di Sant'Agostino attende da tempo di vedere finalmente la fine del degrado. Si lavora anche per programmare opere pubbliche necessarie a causa di assenza di manutenzione per le quali si stanno attuando progetti specifici come Ponte Serra e Ponte di Fertilie, il cambio di prospettiva del nuovo centro anziani che abbiamo voluto tenere in viale della Resistenza, così come da nostro programma. in continuità amministrativa anche raccogliendo i risultati dell'assenza di manutenzioni che ci impegnano a interventi straordinari. Stiamo lavorando, sottolinea la pulina, per mettere in sicurezza strutture importanti ma dimenticate. A proposito dell'Unione di Commissione invece quest'oggi si rilieverà quella la sanità convocata dal Presidente Cristian Mulas per parlare dell'emergenza Covid, ovviamente delle misure che si stanno prendendo ad Alghero, in particolare un focus sulle strutture sanitarie cittadine. Parliamo ora invece delle auto abbandonate in città. Al via infatti la campagna di rimozione con la Giunta che ha stanziato la somma di 45 mila euro. La procedura è stata avviata nel mese di settembre con le indagini svolte per risalire i proprietari e con le successive attività di verbalizzazione e notifica. Molte di queste procedure sono giunte quasi al termine. Si inizia con le prime azioni di rimozione e consegna a una depositeria che provvederà dai corsi termini di legge alla demolizione. Nei giorni scorsi intanto la Giunta su proposta dell'assessore alle finanze Giovanna Caria ha approvato una prima variazione al bilancio che destina 45 mila euro alla rimozione delle macchine abbandonate. Il lavoro congiunto con l'assessore all'ambiente Andrea Montis e con il comando della Polizia Locale prevede ora un incontro operativo per la prossima settimana al fine di imprimere massima celerità alle operazioni di rimozione. La procedura di liberazione delle strade dalla presenza di veicoli infestanti consente di garantire decoro e pulizia in ambito urbano. Da una stima fatta dalla Polizia Locale risultano circa 120 i veicoli che giacciono dimenticati in molte parti della città. Già inviati gli atti si sta procedendo per gradi. Il percorso per rimuovere e mandare a demolizione mezzi abbandonati è complesso. In molti casi si tratta di veicoli con presenza di fermi amministrativi o fallimenti che ne impedirebbero la demolizione. Chiudiamo con lo sport, in particolare con il tennis. Per riferirvi dell'ottimo risultato ottenuto dai portacolori del Tennis Club Alghero nella quinta edizione del Memorial Mariano Serra, torneo di terza e quarta categoria maschile e femminile disputato sui campi del Tennis Club Terranova nella città della sportiva Fausto Noce di Olbia. Due le finali conquistate dagli algheresi con Alessandro Concu nel tabellone maschile e Arastasia Ogno in quello femminile. Li vedete nelle foto. Concu accreditato dalla testa di serie numero uno dopo aver lasciato tre giochi nei primi due match disputati ha ceduto solo davanti ad Andrea Sigillino al fiere del circolo ospitante che si è imposto per 6-3-6-2. In Lizza anche Nicolo Serra che dopo aver superato due turni è stato stoppato nei quarti da Simone Dessi numero 3 del seeding. Nel tabellone femminile Anastasia Ogno ha esordito regolando 6-1-6-0 Giorgia Rossi del Tennis Club Terranova che nel primo turno aveva battuto un'altra tenista algherese Marta Cau 6-3-6-2. In semifinale la Ogno ha incontrato la pari classifica Elisa Roccaforte del Tennis Club Terranova battendola 6-1-6-2. La finale come già nello scorso terreno in serie ha visto la tenista algherese sfidare Carolina Cicu e ancora una volta è stata la setta della torre a vincere con 6-4-7-5. La tenista algherese può comunque essere molto soddisfatta del suo 2020 visto che grazie ai risultati di questa stagione ha festeggiato a ottobre la promozione e la classifica operativa da 3.3 a 3.2. Il Tennis chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale e noi ci rivediamo domani. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.